Grazie a tutti Oh, mettiti così e ti schioro Se ti piglio ti... Fai la rubrichina, va bene? Va bene Va bene, vai, la fai lo stesso Signore e signori Ma perché te, se ti giro il pizzo, ci sciupa meno Armanacco, armanacco Ti parlo Ciao Massi, ciao Cagliostro Ciao Benedetta, ciao Rossi Grazie Sono di crisi di doppia personalità Ma come state, bambini, come state? A noi molto bene, grazie Tu come stai? Molto male, molto male Bene Tu come stai? Tu come stai? Allora, amare vuol dire accettare l'altra persona E tu mi accetti? Ti accetto e poi nascondo i pezzi Ti accetto Però è più milanese questa gag Ti accetto Ma se tu mi amassi? Ma no che non ti amassi? No che non ti amassi Questa è più bolognese È più bolognese Benedetta, prego Puoi dirci le tue cose Ma certamente Insomma, lo sapete che cosa è successo oggi nel 1851? No, anche perché nel 1851 non può essere oggi Anzi, nel 1848? Ah, nel 1848? Hai sbagliato Sì? Dici, dici Allora, oggi nel 1848 Venne promulgata la Costituzione Parlevere Oggi nel 2000 Venne pubblicata la versione 1.0 Indovino, indovinello Chi fa l'altro con il colbello? Guarda quella bellina oggi vestita di rosso Eh, oggi sì È tono su tono, rosso su rosso Oggi è veramente bellino Dici cara, dici cara Bene Dembe un po' Crudelia de Mon Sta bene come un grande Crudelia de Mon Crudelia de Mon, sì Crudelia de Mon